Buongiorno, mi chiamo Jessica, ho 26 anni, sono la docente responsabile del corso di pasticceria preso arteformazione. È un corso a 360 gradi, sia a livello teorico che pratico, rivolto a persone amatoriali come a professionisti. Partiamo dalle basi fondamenti della pasticceria, impasti, creme e produzione, fino ad arrivare ai giorni d'oggi con i dolci moderni. A fine corso verrà rilasciato un attestato di frequenza e l'ultimo giorno, che è il gran giorno dell'esame finale, abbiamo una commissione esterna che sono i nostri sponsor, che vengono appunto a testare i dolci e le creazioni fatte dai nostri allievi. La nostra missione in questo corso appunto è formare neopasticceri che siano pronti a lavorare singolarmente o in sinergia con altre persone. insegniamo soprattutto a rispettare le norme di un laboratorio, delle attrezzature, e la cosa principale è la materia prima, che è da quella dove si parte per poter creare un ottimo dolce. docenti del corso di pasticceria, dovevo ricominciare. Dovete rispettare le nostre fatte le prime per poter realizzare un ottimo dolce. del corso di pasticceria, dovevo ricominciare. Dovete rispettare le nostre fatte 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 le nostre fatte.